Weee! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai yeee! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono Xyuder e ragazzi missione della settimana numero 4 sfide della darsena se non ricordo male passare con la barca in mezzo ai cerchi di fuoco il primo cerchio ragazzi lo trovate proprio qua nelle coordinate F5 esattamente sul fiume quindi ragazzi con la barca ci passate in mezzo cerchio numero 1 fatto! Il cerchio numero 2 invece ragazzi come vedete in fondo là dovete andare nella casella F4 molto semplicemente dove ci sono le affluenze dei quattro fiumi quindi ragazzi in questo pezzettino di terra vicino alla fattoria il cerchio numero 2! Per il terzo cerchio ragazzi lo vedete già davanti a me molto semplice dove siamo? Beh siamo nella casella E8 ragazzi basta semplicemente andare un pochettino più avanti in poche parole subito dopo la montagna bianca prima della baita e là davanti oltre a trovare una barca troverete anche il terzo cerchio! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video noi siamo in live su twitch ciao!